Buongiorno, allora, questo vlog inizia abbastanza tardi perché sono già a mezzogiorno e venti e adesso mi metto a cucinare per fare un po' di pasta e ho già messo a caricare il vlog di domenica, se non mi sbaglio era e praticamente ho già iniziato a smontellare un po' la cucina adesso vi faccio vedere, nel senso che, qui sotto ovviamente non c'è più niente infatti l'ho già iniziato a togliere, poi qui c'è rimasto veramente poca roba ho iniziato già a togliere un po' tutto a me ne aspetti invece ancora no perché mi servono altri cartoni però ho tolto già la roba di me dentro poi di qui non ho tolto assolutamente niente ancora perché finché non ho i cartoni l'unica cosa che ho tolto è che mi sono state intanto le tazze ho lasciato proprio due bicchieri e la tazza di Marco per fare colazione ma veramente veramente niente dice ah e quassù ancora c'è tutto ovviamente quello è il pezzo della fiattaia che purtroppo si è rotto poi con su c'è ancora tutta la roba che presto leveremo però intanto ho già iniziato a portare tutto ho portato già tutto, ho messo tutte le cartoni e ho portato in camerina per ora e poi vedremo che perché stasera tanto vado al lavoro quindi poi prendo altri cartoni e così poi domani sì domani direi finisco di sistemare la roba anche perché poi lunedì viene il mio suocero a iniziare a smontare la cucina quindi deve essere già tutto smontato anche perché quando verranno a montarla voglio farli trovare sotto la cucina tutto pulito perché sicuramente ci sarà uno sporco numero uno ok adesso ho già messo acqua anche perché non so cosa sia successo ma questo gas qui fa un po' di brutti scherzi ma adesso perché fino a reale sera era tutto a posto comunque poi sia il forno che il frigo poi non so che fine faranno ah devo chiamare assolutamente il servizio per portare via la cucina mi fronde questo qua poi andrà a dei nostri amici ma adesso devo assolutamente chiamare il servizio che mi porterà via la cucina prima che me ne dimentichi perché già me ne sono, me ne ero già scordata mi sono già munita di telefono adesso cerco il numero e chiamo anche perché sennò poi non ce la facciamo con i tempi ci giorniamo ah oltretutto prima che chiamo il servizio mi sono dimenticato di dirvi che nell'altro vlog avevo scritto che cioè avevo detto che vi avrei messo il link del catalogo dei prodotti nell'info box ho provato a metterlo solo che non me lo fa ammettere quindi a caso mai contattatemi su una delle mie pagine facebook tanto trovate di instagram scusate stamani sono sbalvolata già di mia storia naturale e con tanta film in una delle mie pagine instagram tante link li trovate giù nell'info box se ne so mai e ve lo mando in direct perché purtroppo youtube non collabora voilà chiamato anche servizio sono stata e un bel po' il telefono però tutto sommato dai almeno l'unica cosa non aspettavo che venissero martedì invece vengono lunedì e mercoledì scusate non so perché hanno cambiato i giorni vabbè tanto comunque mercoledì vengono martedì io la metto fuori a questo punto anche perché ora mi hanno un po' incasinato i giorni perché lunedì non la smontiamo quindi non so ora mi hanno un po' ma un attimo scombustolata perché sapevo che venivano di martedì invece no vabbè e niente ora questa sera ne parlerò con Marco e vediamo un attimo perché comunque sia noi lunedì vado montata per forza perché lunedì perché martedì ce la vengono a montare nell'altra quindi vedremo vedremo intanto ora mi faccio da mangiare mangio qualcosa nel frattempo il video sta creando già il 14% ora vi voglio far vedere come dorme questa no vabbè guardate Zack buongiorno ma buongiorno saluto un po' i tuoi follower buongiorno mi ne può fregare di meno comunque poi non so se vi ricordate quando ho fatto almeno le vedete il l'home tour queste qui non so se vi ricordate le luci ma queste non staranno più per così perché ora sono messe per lungo ma andranno nell'altro verso cioè adesso voi le vedete per così poi andranno per così praticamente perché il tavolo lo sostengono è un balassero casino che c'è qua che regna perché anzi vi ricordo la videocamera almeno vedete perché già che l'isola va via il divano lo sposteremo forse un pochino più indietro ora dobbiamo un po' vedere il tavolo lo dobbiamo girare perché poi qua giù c'andrà l'altra pezza della cucina che in questo momento anche le luci vanno un po' spostate però poi è tutto un work in progress diciamo e già che ci siamo fatemi sapere se vi può interessare poi vedere come ho organizzato tutta la cucina intendo la cucina nuova fatemelo sapere così poi vi faccio il tour della mia cucina se vi può interessare e adesso se vi finisco di cuocere la pasta e poi mangio perché ho veramente fame 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 allora ho finito di pranzare adesso penso che vi terrò di governare e ho già mandato ancora una lavatrice e ho fatto anche le cose dallo stendino se no poi non posso sostendere l'altra e stasera poi vado al lavoro non ho neanche voglia oggi però purtroppo devo andarci lui continuo sempre a dormire in questa posizione già morì niente non mi considera infatti sto guardando la tv ok ho quasi finito di fare tutte le cose manca solo tarico per andare ma penso che lo farò stasera quando torno perché adesso non ne sbaglio infatti non vedo la carina la lavastoviglia comunque sta per andare online il video manca solo 38 minuti basta qui qualche uno sta scottando tutto ciò che diciamo già morì comunque vi volevo far vedere una cosa non mi lascia il caos che c'è questo è il delirio questa è tutta la roba che ho tolto dall'isola praticamente e ovviamente l'ho dovuto appoggiare qui considerando poi anche tutto il resto avevo rimesso a posto tutto giovedì se non sbaglio sì qui ho spolverato tutto queste sono tutte le cose solo dell'isola a parte in questo cartone qui che c'è la roba del anche il taz che è sta roba e tutti i miei stori vabbè che fanno sempre parte dell'isola però poi il resto il resto questi due questo grande e questo sono tutti dell'isola e oltre a tutto se ne stanno per raggiungere altri quattro perché in tutto ciò se noi chiudiamo la porta per non far entrare il cane sia in bagno che sia in camerino in camera tranquillamente comunque dicevo mi serviranno altri quattro perché devo ancora svuotare tutti i cassetti qua il mobile qua giù il mobile sotto e il mobile questo qui dove c'è sale spezia tutta questa roba questo è tutto quello che mi manca ancora sto guardando nel frattempo il video di Chiara il vlog è uscito oggi che è il vlog di ieri però mi sa che porto fuori piccolino perché è andato fuori questa mano e ancora non è riuscito quindi adesso porto fuori l'uso e poi mi finisco di guardare e oltretutto ho già steso anche la lavatrice che avevo fatto e me l'ero anche completamente dimenticata stordita cronica però vabbè allora poi alla fine ho finito di guardare il video di Chiara adesso porto fuori lui e manca è esattamente ancora 22 minuti circa 90% ed è online il vlog di domenica e adesso prendo le chiave e porto fuori questa questo esserino piccino sì sta andando sì è l'unione che fa il leone dovete sapere quando lui sbatiglia non è che sbatiglia normalmente non lui deve fare il leone sa perché ma deve fare il leone non l'ho portato prima anche perché sto aspettando una mia amica che era dall'altra sua amica ma penso che sì infatti è a casa quindi adesso scendo a portare fuori lui insieme sono appena rientrata fuori con un bambino un cacciatore perché è un caldo oggi non so per voi ok è andato anche online il video poi oltretutto mi è arrivato un sacco di posta fra cui la bolletta dell'acqua che ancora la famosa bolletta dell'acqua non è arrivata ci doveva arrivare e poi non c'era ancora arrivata insomma problemi loro non mi interessano dunque poi devo insegnare anche questo qui a un mio amico che è per la sua mamma adesso inizio a guardare questa benedetta forza che cosa quanto sono quanto sono le spese mi fa mi fa fare due conti perché qui se no ci se ne leva più le gambe ne fa sempre qualsiasi uno beve e zack non sgocciolare dai io veramente non ci faccio più mi fa un caldo oggi quanti gradi quanti gradi sono da voi fatemelo sapere qui da noi non lo so inizio a mettere perché la sonda della macchina del termostato della macchina e non riesco più a vedere la temperatura che c'è fuori vi volevo chiedere anche un consiglio perché allora vi spiego come sapete noi a casa abbiamo una terrazza non abbiamo il giardino quindi dobbiamo un po' adattarci nel senso che siccome noi in terrazza abbiamo il tavolo con le panche che ora vi faccio vedere però non lo usiamo mai praticamente non soffriamo mai del tavolo quindi avevo pensato di togliere il tavolo quello lì e di mettere tipo un tavolino piccolino tondo con due sedie tanto per l'estate tipo per andarci e bere qualcosa da lì fuori ecco tanto noi lì fuori non ci si mangia quindi noi si mangia sempre in casa comunque adesso vi faccio vedere un po' come non badate al caos che c'è non guardate il casino perché devo ancora sistemare tutta la terrazza ho sistemato a casa ma devo sistemare assolutamente la terrazza sicuramente lo farò ora in settimana nuova o domani adesso vedo un attimo perché domani è anche brutto quindi lo farò in settimana quando magari non ti ravento c'è una bella giornata che si posta fuori adesso dove metti si golf comunque adesso vi faccio vedere ecco non fate caso al casino non so se siete riuscite a vedere perché non è il sole non fate caso al casino che c'è ma qua c'è il tavolo con le canche una là e una qui volevamo toglierle cioè meglio io la mia vera quella di toglierle e di metterci un tavolino tondo qua con due sedie in modo da berci qualcosa ecco da berci qualcosa l'estate la sera dopo scena magari tipo non sappiamo fare ma magari c'è tipo ci abbiamo il giorno libero il giorno dopo e e ci andiamo a bere qualcosa di fuori ecco però vi voglio far vedere anche un'altra cosa nel vlog dell'altra volta dell'altro giorno non era poi così fiorito però guardate com'è bello adesso e ce l'hanno sia loro che altri vicini che stanno sia loro che altri vicini stanno di là ma guardate quanto è bello questo questo altro allora se riuscite a vedere quanto è bello questi fiori ovviamente da lontano così ovviamente sono quelli che stanno qua però questo albero qui c'erano anche quelli che stanno qua dietro l'albero praticamente perché ovviamente ovviamente bello sia a vedersi ma a qualche d'uno gli fa allergia la sottoscritta ebbene si sono allergi al polio insomma i fiori in generale la fioritura dei fiori insomma per intenderci quindi infatti inizio già a star nuotire amore che c'è inizio già a star nuotire da diversi giorni quindi è diventato un dramma veramente stavolta un dramma allora vi volevo anche dire un'altra cosa non so se vi ricordate i prodotti di che li stavo provando che vi ho fatto vedere nell'altro video di cui vi ho già parlato e mi sto trovando molto molto ma molto bene nell'altro video vi avevo detto appunto che la crema viso ancora non l'avevo provata perché dovevo finire l'altra ma devo essere sincera ora l'ho finito l'altro sto usando quella di brochet e mi sto trovando da 10 ma veramente benissimo ma veramente benissimo quindi se li volete provare o le avete già provati e li volete poi ordinare fatemelo sapere in direct direttamente su o sulla mia pagina facebook instagram dolcechicca o su quell'altra dove posto appunto le foto dei prodotti fatemelo sapere in direct direttamente perché appunto come ho detto stamattina youtube non collabora quindi non vi posso mettere il link del catalogo quindi sarebbe in un cioè non ve lo posso mettere scrivetemelo in direct appunto così ve lo mando e poi fatemi i codici che vi servono se vi interessa qualcosa comunque io adesso vado a lavoro perché alle 6 dentro si dice alle 6 adesso ok sono salita in macchina adesso c'è la signora di questa macchina che è accant' alla mia la bianca che tutte le volte mi mette la sua macchina appiccicata alla mia quindi se se io Marco si dovesse uscire con la mia macchina e guido io Marco in macchina non può salire perché la signora la mette sempre appiccicata quindi tutte le volte devo uscire perché ci fanno salire veramente io questa villa la odio in tutti i cuori veramente ma la odio comunque se io smetto di parlare e ci vediamo poi stasera quando torno a casa comunque vedo la la pelle molto ma molto molto cambiata rispetto a prima oltre tutto devo andare anche dal dermatologo perché devo far vedere un neo che c'ho dietro il collo mi comincia da fastidio e c'è da far vedere anche due nei qua perché cresci peli e con il trattamento viso che sto facendo finire i baffi appunto non mi ci possono andare sopra perché c'è i nei e deve farlo assolutamente il dermatologo infatti me l'avevo già chiesto ma l'ho informata comunque io adesso smetto di parlare e ci vediamo poi sono già tornata scusa scusa zacc se mi vedete con la zacc non sono tornata adesso me la sono rimessa per portare fuori zacc oggi ho mangiato qualcosa adesso lo porto fuori parlo a bassa voce perché Marco già dorme quindi io vi mando un enorme bacione vi auguro la buona notte ci vediamo al prossimo video ciao ciao